ciao a tutti ragazzi io sono sauro urlatore il dinosauro più simpatico del mondo e benvenuti in questo nuovo episodio di telecamera man recensione di oggetti ma che diavolo bene ragazzi oggi recensiremo un oggetto speciale un oggetto maledetto un oggetto veramente malvagio spietato e assetato di sangue sauro urlatore che cosa stai facendo sto facendo un episodio di telecamera man recensione di oggetti ma questa è la mia serie tu devi fare la boxing e mi scotto sembra di fare la boxing per una volta vorrei essere un episodio di telecamera man recensione di oggetti e va bene facciamo così facciamo che in questo episodio ci sei tu sì che bello va bene dai perché già stiamo a un minuto e venticinque secondi di video dai cominciamo ok ciao a tutti ragazzi io sono il telecamera man già l'ho fatta la presentazione ah ok e benvenuti in questo nuovo episodio di telecamera man recensione di oggetti comunque sauro urlatore quali oggetto malvagio tu stai parlando cosa qual è l'oggetto che ci vuoi far recensire oggi che ha un aspetto così malvagio o grazie per avermelo chiesto ora te lo faccio vedere chissà dove sarà andato eccolo qua era questo l'oggetto che mi che mi volevi far recensire oggi un quaderno della seven si ovviamente ha un aspetto così macabro io non lo trovo macabro per me bellissimo ma per me fa paura e e va bene però adesso continuiamo con il video ok ok ebbene sì ragazzi oggi recensiremo un quaderno della seven io ho recensito sono quelli della invictia e della color book adesso le recensiremo uno della seven che secondo me la seven fa i quaderni più i strani mai visti al mondo ne ho un paio di quaderni della seven però no già stiamo perdendo tempo non me li vorrei mostrare comunque iniziamo a recensire la copertina allora qui sulla copertina possiamo vedere un serpente attorno il quaderno della seven ovviamente che forse lo sarà lo starà per non ho idea di che cosa sta facendo però c'è anche un serpente qua dietro è vero e qui ragazzi possiamo trovare il logo della seven che sarebbe un 7 che colorato di un verde praticamente questo verde ecco perché mi piace il verde perché così acceso così bello così brillante tipo così e come in ogni quaderno esistente su questo pianeta potete scriverci il nome cognome scuola classe e materia che sarebbero i vostri dati e la seven la potete seguire su www7eu www7eu non capisco perché mettono questi nomi sui quaderni è saurlatore l'inglese ah ok comunque possiamo anche notare che il quaderno è di un colore verde militare perché ragazzi dovete sapere una cosa a parte questo io sono un collezionista di colori che colleziono che colleziono colori difficili da trovare e li uso tipo che per colorare bene e dovete sapere che io tengo anche non veramente c'ho anche il verde militare il verde militare e praticamente ieri sera ho ottenuto un nuovo colore che sarebbe il rosa glitter che sarebbe un colore glitterato wow posso vederli no uffa e potete capire questo quaderno della seven guardando il simbolo qua della seven sì c'è scritto due volte sul quaderno uno sulla copertina e due sulla copertina dura che cos'è una copertina dura quelle paginette quelle la sfondo bianco ah è foglio bianco ok bravo saurlatore hai un'ottima vista ok ragazzi la recensione di oggi finisce qui vi raccomando iscrivetevi a gaitano il suo canale di rosa e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video e vi raccomando guardate anche le nostre unboxing che potete trovare tantissimi bei giocattoli e noi ci vedremo in un prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ragazzi aaaahhhh a